Voglio grande l'applauso, fatevi sentire perché tra l'altro io devo ringraziare tutto il pubblico qui in studio perché sono carinissime, anche la signora grazie sempre per gli complimenti che ci fate e anche gli amici da casa che ogni sera ci seguono. Siamo il vostro passatempo serale, la nostra musica che naturalmente allevia sempre un po' così quelli che sono i dispiacere un po' quotidiani, la noia quotidiana. Quindi musica, musica, musica. Allora io voglio Mario Sacco qua vicino a me. Vieni va, fate l'applauso Mario perché stiamo parlando anche di fisarmonica. Sapete sempre, non mi stancherò mai, lo strumento che io amo particolarmente essendo figlia di un papà che ha dato la vita per la fisarmonica. Tra l'altro io sto vedendo in scaletta un grande omaggio da Astor Piazzola. Il titolo del brano è Libertango, in una versione mi dicevano un po' così anomela rispetto a quelle che ascoltiamo di solito. Sono curiosa di ascoltarlo, voi siete curiosi, insieme ce l'ascoltiamo. Libertango, Mario Sacco e naturalmente Rossella Ross Orchestra. Prego. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.